salve in questo periodo come tutti gli anni c'è sempre una sensazione di solitudine molte persone siamo dicembre del 2022 e quindi si avvicina il natale tra un paio di settimane poi capodanno poi l'epifania poi insomma varie cose e la gente in questo periodo diciamo di solito si sente più sola si sente sente il peso della solitudine e questo avviene tutti gli anni io l'ho notato anche attraverso diciamo lo speaker diciamo un modo dove posso parlare il podcast c'è una puntata che è proprio molto richiesta molto cliccata durante questo periodo diciamo non solo fine anno ma anche intorno a pasqua anche intorno a ferragosto intitolata sei solo in questo mondo sei sola in questo mondo punto interrogativo parlo sia in italiano che in inglese che in arabo la stessa puntata ed è quella più cliccata ma la gente non deve sentirsi sola perché c'è dio vicino a ciascuno di noi vicino a ogni essere umano qualunque esso sia e lui vuole che ci sia questo contatto questo contatto diretto questo è uno sketch che io ho fatto tramite il computer qui dio con la mano bianca dio è santo e puro e qui sotto c'è la nostra mano nera per noi siamo pieni di peccato ma siamo salvati per grazia ci dice la bibbia in efesini 2 capitolo 2 versetto 8 dice gli è per grazia che siete stati salvati mediante la fede non è in virtù di opere affinché nessuno si glori quindi il nostro peccato può essere purificato dalla fede del signor gesù lui vuole questo contatto che ci sia questo contatto quindi non bisogna sentirsi soli anche se in realtà siamo tutti soli anche le persone più ricche al mondo le persone più potenti le persone più influenti sono siamo tutti soli le persone più influenti più ricche eccetera uno potrebbe pensare sono circondate da migliaia milioni di persone che gli servono e sono entusiasti ma questo perché c'è il collaborazionismo non sono persone influenti persone ricche quindi vogliono qualcosa in cambio se questa persona fosse povera diciamo non avrebbe nessuno intorno a lui anzi il poverello in mezzo alla strada che sotto la pioggia che chiede qualche spicciolo meno solo del più uomo dell'uomo più ricco più potente più influente della terra perché l'uomo più ricco per esempio della terra c'è un sacco di persone che al cento per cento servono anche la propria madre proprio padre perché diciamo la ricchezza e l'influenza che riceve tramite questo figlio ricco più ricco del mondo e dopaminico va al cervello no e quindi causa dipendenza quindi anche il proprio padre la propria madre proprio familiare alla fine diciamo il rapporto diciamo diventa subordinato a quello che lui può avere o quello che lei può avere e quindi sono più soli loro che quel poverelle mezzo alla strada che riceve ogni mezz'ora ogni cinque minuti ogni ora riceve qualcuno da qualcuno qualcosa da mangiare da bere il vestiario eccetera che lo danno senza nessun interesse quindi diciamo il paradosso è che una persona senza niente è meno sola di una persona ricca e famosa che diciamo le persone intorno alle persone ricche famose diciamo collaborano vogliono qualcosa vogliono qualcosa quella cosa che loro vogliono diciamo dipendono da quella cosa perché ha formato le dopamina ha formato diventato una persona che è dipendente da quella cosa qualunque cosa essa sia potere sesso denaro avere delle cose questa è la situazione quindi alla fine siamo tutti soli o quasi soli ma in realtà nessuno di noi è solo non c'è bisogno di sentirsi soli noi siamo sempre pervasi dallo spirito di dio gesù quando è salito al cielo ha detto di stare calmi stare buoni perché io manderò lo spirito consolatore che il consolatore sarebbe lo spirito santo e lo spirito di dio e lo spirito di gesù e la stessa cosa no anche se diciamo le tradizioni dicono che sono tre entità distinta e separate in realtà sono uno sono uno quindi l'incarnazione del creatore di tutto e il signor gesù lo dice la bibbia lo dice dice et verbum caro factum est vangelo secondo giovanni al capitolo 1 al versetto 14 et verbo un caro fatto mess vuol dire dio si è diventato carne cioè gesù e l'incarnazione di dio quindi san paolo ci dice che tutto ciò che è stato creato è stato creato da gesù e nulla di ciò che esiste esiste se non per mezzo di gesù quindi gesù è dio e l'eterno creatore di tutto è la stessa cosa dio cioè il creatore di tutto si è incarnato si è incarnato nella forma del signor gesù per vivere in mezzo a noi per indicarci la giusta strada e chiunque crede in lui ha la vita eterna infatti il signor gesù ha detto io sono la via la verità e la vita chiunque crede in me anche se muore vivrà l'ultimo giorno diciamo il giorno della risurrezione sarà attratto a me e avrà la vita eterna io poi ho scritto vari articoli su internet eccetera no per esempio scrivo su sub stack parlo su spreaker sono anche su tik tok sono anche su quora quora un sito dove si fanno domande e ti rispondono io faccio faccio io rispondo a molte domande però le faccio anch'io diciamo quindi sono presente in molti portali in molti siti potete cercarmi e diciamo mette del nome cognome poi cercate i vari portali sono presenti un po ovunque insomma come il prezzemolino e la cosa importante da sapere che anche se noi siamo come dico nei miei articoli siamo giunti e siamo stati catalogo puntati in questa realtà senza che nessuno ci chiedesse niente ci troviamo in mezzo ai guai in questo orrore diciamo che non non si sa qual è la fede giusta la fede sbagliata la religione più grande della storia è in minoranza assoluta perché anche se siamo per esempio come cristiani in tutte le denominazioni in tutti i gruppi eccetera due miliardi e mezzo diciamo tre è sempre minoranza minoranza assoluta perché il mondo è composto da otto miliardi di anime quindi da tre miliardi a otto miliardi in minoranza quindi non sappiamo siamo catapultati in questo questa dimensione senza sapere nulla diciamo si gioca la rullotto russa devi indovinare devi sfuggire alla quella pallottola che ti brucia quindi devi sfuggire all'errore di scegliere all'errore orrore di aver scelto diciamo la religione sbagliata perché la salvezza non è attraverso diciamo ciò che vengono i tuoi genitori lo dice la varia tradizione lo dicono no perché per esempio la tradizione evangelica dice coloro che non hanno creduto nella bibbia nella parola di dio e la rigettano sono vanno alla perdizione invece la logica umana dice no io sono nato buddista sono nato induista che colpe o quindi diciamo tutte le fedi diciamo monoteiste sono molto gelose diciamo o è così o è pomì o diciamo credete in quello che crediamo noi come religione monoteista oppure siete diciamo avviurati da il creatore eccetera eccetera quindi questo è una diciamo un dilemma diciamo terrificante dell'essere umano e siamo stati catapultati in questa realtà senza avere nessuna certezza senza essere stati consultati e poi ci troviamo in mezzo a molte difficoltà e non c'è nessuno che che guida a voglia dire leggi la bibbia lo spirito consolatore eccetera certo certo che lo spirito guida ma la maggior parte della gente che ne sa della bibbia o di altri libri sacri sono troppo impegnati troppo impegnati a lavorare a crescere i figli con i vari problemi quindi questo in inglese si chiama da human predicament la grande difficoltà grande dilemma diciamo dell'orrore del tragico di trovarsi in questa dimensione io ho trattato questo problema diciamo dal da vari anni a questa parte e soltanto quest'anno sono riuscito a decifrare diciamo il dilemma lo spiego su diciamo substack sono tre puntate il dilemma umano è stato decifrato dal fratello zaccaria sì o no la risposta è sì in tre puntate quindi in italiano poi in inglese in arabo quindi un lavorone e questo è il risultato appunto di meditazione di introspezione di misticismo di gnosticismo di contatto diretto con il creatore quello che io voglio spingere ogni persona a fare la stessa cosa quindi perché sentirsi soli non siamo soli siamo in presenza del padre del figlio dello spirito santo quindi se noi preghiamo il creatore di tutto lui avrà comunione con noi entrerà dentro di noi e ci darà la pace la serenità diciamo non non sarà una panacea dove uno avrà risolto tutti i suoi problemi i problemi ci sono ci saranno sempre ma almeno saprà che se deve partire diciamo deve passare questo punto del trapasso diciamo sarà in buone mani quindi diciamo la mia esortazione in questo periodo di non sentirsi soli di approfittare di questo periodo dove tutti quanti parlano di gesù tutto il mondo parla di gesù diciamo sono influenzati perfino i paesi atei paesi di altre religioni e confessioni religiose sono tutti molto influenzati dalla nascita del signor gesù che non è altro che una ripetizione nella storia io lo spiego diciamo attraverso il credo diciamo questo nuovo credo che è l'ognosticismo cristiano di stampo zaccaria cioè zaccariano dove credo che appunto che l'incarnazione del creatore c'è sempre stata dal giorno 1 in quest'epoca moderna cioè gli ultimi 2000 anni si chiama epoca moderna nell'equazione totale della storia 2000 anni è una piccola frazione si chiama al signor gesù ma 3 mila anni fa 4 mila anni fa 5 10 mila anni fa abbiamo un dio ingiusto che negli ultimi 2000 anni la salvezza è per grazia la dispensazione diciamo della grazia io non sono più dispensazionalista lo ero prima adesso non credo più nelle varie epoche credo che il nostro dio è un dio stabile non di non è un dio schizofrenico diciamo in quest'epoca sarò così no no è sempre stato uguale quindi se c'è stata l'incarnazione in questa epoca signor gesù c'è stata anche 3 mila 4 mila 10 mila 5 milioni di anni fa e noi come specie siamo qua da 5 milioni ci dicono gli scienziati no australopithecus africanos i pitechi i primati e anche questo lo spiego su spreaker diciamo la puntata australopithecus africanos quindi potete andare a vedere diciamo il mio account il mio nome cognome uguale fra zaccaria su spreaker guardate la puntata sei solo in questo mondo sei sola in questo mondo e potete ascoltare molti più dettagli che io spero potranno essere di consolazione per voi e poi ascoltate anche australopithecus africanos e poi anche su youtube ci sono se voi guardate sotto vedrete molti miei video 2014 15 16 17 18 19 20 continuamente faccio dei video proprio basati su questa mia lunga esperienza ecclesiastica pur avendo studiato economia e commercio all'età di 30 anni quindi nel 1989 mi sono tuffato nelle cose spirituali e già prima dell 89 ero già di mestichezza diciamo conoscevo le religioni già nel 1975 ricevevo la pura verità dove parlava di apocalisse 13 e tutta l'apocalisse dall'america ricevevo delle pubblicazioni da leggere quindi ero già informato dal 75 diciamo adolescente 16 anni avevo e quindi sono sempre stato molto interessato in queste cose solo che poi ho studiato economia e commercio mio padre nel commercio altri nel commercio eccetera mi sono fatto prendere da questa trend diciamo potevo studiare invece altre cose sociologia mi sarebbe piaciuto studiare perché sono un grande osservatore della società di quello che succede comunque è tutto è utile come ci dice san paolo tutto può tornare utile per la gloria di dio io vi ringrazio per la vostra attenzione quindi pregate che il signore possa darvi la pace la gioia la serenità cercate di essere di aiuto le persone che sono intorno a voi perché l'unica soddisfazione che potete avere diciamo internamente e proprio servendo a il prossimo io ho costituito questa associazione cristiana aiuto pratico nel 2001 ed è tuttora diciamo attiva online diciamo dal 2017 online però attiva più che mai più anche più di prima e quindi potete avere tutte le informazioni ancora grazie sia lodato gesù cristo e ricordatevi et verbum caro factum est grazie